Il Molise aumenterà il numero delle persone vaccinate da qui ai prossimi giorni. L'ASREM si prepara una nuova fase di somministrazione. Questa volta le categorie indicate a ricevere il vaccino sono quelle dei dipendenti della scuola e gli agenti delle forze dell'ordine. Le adesioni sono partite e sono pronti anche i vari punti vaccinali allestiti su tutto il territorio molisano. La prima fase, come da indicazioni del Ministero, è rivolta agli under 55, non vulnerabili ai quali verrà somministrato il vaccino AstraZeneca. Stesso vaccino anche per chi ha un'età compresa tra i 55 e i 65 anni, che però dovrà ancora attendere qualche giorno per la somministrazione. Chi invece supera i 65 anni oppure rientra nella categoria delle persone particolarmente vulnerabili, il vaccino somministrato sarà quello della Pfizer o di Moderna. Anche per gli over 80 è ancora possibile presentare domanda per ricevere il vaccino. Per farlo basta accedere al sito dell'ASREM della regione Molise e attendere di essere chiamati. Una fase sicuramente importante, soprattutto per rilanciare le speranze di vedere le scuole di nuovo all'opera con le lezioni in presenza. In Molise sono oltre 5.000 le persone che lavorano all'interno degli istituti scolastici, numeri che si aggiungono ai tanti militari delle forze dell'ordine. Un numero importante che quindi permetterà un passo in avanti in un sentiero ancora tortuoso e che attende una determinante accelerata. È partita da qualche giorno la prenotazione online per quanto riguarda il personale scolastico, quindi sia docente che non docente. Ieri è partita proprio la vaccinazione presso il Pala Unimol. e nel giro di pochi giorni punteremo a vaccinare tutto il mondo scuola. Una prima fase avverrà per i docenti e per il personale ATA e poi per tutte le persone che gravitano intorno alla scuola. Grazie. Grazie. Grazie.